Alisha Marinetti Abbiamo pulito l'anice e l'abbiamo messo con l'aceto Lasciamole per 20 anni a riposare Dopo torniamo a riposare questo peperoncetto sott'olio Abbiamo preso i pironi, li abbiamo messo sotto stato per 24 ore Con il peso sopra, dopo 24 ore le mettiamo in i bastetti Con l'aio e aggiungiamo un ruolo e un ruolo Giungiamo un ruolo di ceni con l'aio e un ruolo Quindi abbiamo messo sotto i ceni per avversare ogni mezzo peperoncetto Adesso prendiamo la Lisha Marinetti Voltiamo l'aceto Abbiamo preso la sciacquata piccola E la ceni con l'aceto Assolutamente il ruolo di ceni per avversare ogni mezzo peperoncetto Facciamo un ruolo di ceni per la popolazione Grazie a tutti 3 4 3 4 4 5 6 6 7 8 8 10 11 11 12 12 12 13 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 19 20 20 20 20